Nel difficile percorso verso la salvezza, la miternina calcio nel campionato di Serie D arricchisce il proprio organico con un portiere dopo gli ultimi innesti in rosa. Dopo la partenza di Marco Schina e l'ingaggio di Yuri Pantarotto, i giallorossi di mister Vincenzino Angelone hanno preso l'estremo Mattia Di Vincenzo, classe 1992. Di Vincenzo nella sua carriera calcistica ha indossato le maglie di Sant'Egidiese, San Benedettese, Aprilia, Carrarese e Maceratese, disputando campionati in Serie D, in Serie C2 e in Serie C1. Un tesseramento che però verrà perfezionato non appena il calciatore e la Maceratese e sua ultima squadra avranno formalizzato la rescissione consensuale del contratto. Intanto in casa giallorossa proseguono gli allenamenti in vista della gara di domenica 17 gennaio al comunale di Scopito. Farà visita ai giallorossi di mister Angelone il Matelica.